buongiorno e buon caffè biblico a voi sembra che l'uomo abbia l'innata capacità di vivere vite a compartimenti stagni o se preferite vivere doppie vite Giacomo frequenta regolarmente la chiesa e guida con amore gruppi di preghiera ma nel viaggio di ritorno a casa in auto inveisce con parole mortali contro altri guidatori per Giacomo in chiesa si prega e si canta a Dio fuori si lotta per conquistare ogni centimetro quadrato della sua vita Susanna piange in chiesa durante i canti sull'amore e la grazia di Dio ma continuamente in ogni momento si lamenta dando la colpa sempre agli altri di tutte le difficoltà della sua vita Matteo legge la Bibbia ogni mattina prima di andare a lavorare ligio ma poi non pensa che la presenza di Dio sia nel suo luogo di lavoro o quando sta con la moglie con i figli per esempio Marta adora organizzare gli incontri delle donne nella sua chiesa ma poi a casa rimprovera suo marito ad ogni minima occasione per ciò che non hanno avrebbero potuto avere per ciò che lui non sa fare bene la domenica in chiesa Vincenzo appare impeccabile come gli abiti che indossa sempre curato berrasato attento e profumato ma poi quando esce con gli amici fa il filo a tentazioni pericolose Rosa invece sbraita contro suo marito ogni giorno rimproverandolo per le sue mancanze come guida spirituale della famiglia lui ne esce sempre frustrato e offeso lei sente di aver combattuto con coraggio nel nome di Dio è sempre facile relegare Dio alle attività tipicamente cristiane e solo a certi ambiti della nostra vita vestiti con gli abiti buoni della domenica in chiesa o con le mani giunte in preghiera alzando le nostre voci o quando leggiamo agitiamo la Bibbia costruiamo dei microcosmi popolati da Dio lasciandolo invece fuori da altri mondi sempre nostri come se si potessero fare cose davanti a Dio e altre cose alle spalle di Dio l'apostolo Paolo usa parole definitive come queste sentite vi esorto dunque fratelli per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente santo gradito a Dio questo è il vostro culto spirituale i nostri corpi la nostra intera vita ogni area del quotidiano sono offerti come sacrificio vivente poiché non esiste un luogo fisico o un luogo spirituale non esiste un momento temporale o figurativo in cui Dio non c'è o se volete usando altre parole sempre dell'apostolo Paolo pronunciato nel suo famoso Sermone agli Ateniesi di fatti in Lui viviamo ci muoviamo e siamo stare con Dio è tutta la nostra vita che lo riconosciamo o meno che Dio vi guidi in questo giorno e nei prossimi a vivere e a camminare consapevolmente con Lui Dio vi benedica grazie